La Coppa Italia di Serie C inizia a prendere forma, la Lega ha reso nota la composizione dei dieci gironi della fase eliminatoria. Passeranno il turno le prime di ogni gruppo che accederanno all'eliminazione diretta. È solo a quel punto che entreranno nel tabellone anche le squadre che hanno perso nella Coppa Italia, principale da non confonderla con quella di Serie C. Passando ai gironi, la Juventus Under-23, squadra B dei Bianconeri, è stata inserita nel girone C insieme a Pergolettese e Reggio Audace. L'US Avellino invece dovrà vedersela con Paganese e Bari in un triangolare ricco di insidie ma allo stesso tempo ricco di storia. I Biancoverdi dopo la pool scudetto di Serie D ritrovano in un torneo ad eliminazione i Galletti sempre allenati da Mr. Cornachini. La Paganese invece è stata una di quei club Ripescati che ha contribuito ad integrare l'organico delle 59 squadre di Lega Pro. Alla guida dei metelliani c'è Alessandro Erra, ex di Catanzaro Vigor Lamezzi e Gelbison. Per lui da giocatore ha anche 125 presenze tra Serie B e Serie C. Tornando alla Coppa, le tre partite in programma in ogni gruppo saranno disputate nelle prime tre domeniche di agosto, dal 4 al 18. Un torneo che darà la possibilità alle squadre partecipanti di assaggiare le condizioni fisiche post-ritiro prima di dare ufficialmente inizio alle ostilità di un campionato che in ogni caso si preannuncia avvincente ed emozionante.